Musica Da quest'anno è subentrata, secondo me, una ditta chiamata tricologica e alle misse non abbiamo fatto solamente i capelli come tutti gli altri anni ma abbiamo fatto dei veri trattamenti all'ossigeno quindi i capelli erano più belli, più vivi perché al concorso i capelli si lavano due o tre volte al giorno si acconciano due o tre volte al giorno quindi i capelli si sfruttano, si sciupano con dei trattamenti specifici, con il WL1 e delle fiale mineral date sulle lunghezze i capelli erano come nuovi Pavia, mia moglie che anche lei è specializzata per il trucco partendo dal fast, dal trucco più veloce dalla ragazza che deve andare a ballare al trucco più impegnativo che sarebbe da sera da sposa, da cerimonia, a tema tutto quello che riguarda il trucco da A alla Z Sì, anche trattamenti sempre all'ossigeno con il WL1 al viso per prepararlo per un trucco che deve stare anche tanto tempo in posa Fabia, raccontami come è iniziato questo bellissimo lavoro Allora, questo lavoro è iniziato tantissimi anni fa in Brasile quando ho fatto la scuola di estetica e invece mia sorella aveva scelto di fare la parrucchiera e poi adesso ci ritroviamo che sono pure io parrucchiera ho cominciato a fare la parrucchiera in Italia sei anni fa praticamente sono appassionata di questo lavoro perché è un lavoro che ci permette di tirare fuori la nostra creatività fuori la nostra creatività